Gentili telespettatori, buona giornata. Anche Lilly Gruber sbeffeggia la capa Schlein. Non c'è una sola persona, a parte i suoi amichetti della direzione del partito, non c'è una sola persona, conduttore, televisivo, opinionista, che non prende in giro questa capa. Insomma, siamo a livelli abbastanza bassi. Cosa succede? Siamo nella trasmissione di Lilly Gruber 8,5 sulla 7, in onda proprio ieri sera. Il Dem Francesco Boccia prende le difese del suo datore di lavoro, la Schlein. Voi sapete che quando i politici vengono invitati nelle trasmissioni, vanno lì per difendere la loro azienda, il loro partito e il loro posto di lavoro. Perché il partito politico è come un'azienda e il capo politico è un po' come il proprietario, è quello che decide i lavori, le poltrone, chi candidare e chi non ricandidare più. Pertanto i politici invitati nelle trasmissioni televisive non sono liberi di dire quello che pensano. Chissà cosa pensa realmente questo Francesco Boccia di un capo politico di questo spessore. Però in trasmissione televisiva deve difendere, perché ne va, del suo lavoro. Ovviamente è così come da copione il Dem ospite dalla Gruber difende la sua segretaria, il suo datore di lavoro, dice ha il dono, la Schlein ha i doni adesso, ha il dono di parlare semplice. Ah si chiama così adesso, parlare semplice? Ah ho capito, quando parli tipo il conte e mascetti di amici miei come se fosse Antani, quello è parlare semplice. Ah, quando non sai cosa dire, ripeti le stesse cose, vai, parli un po' ingarbugliato perché non sai cosa rispondere. Ah, quello si chiama ha il dono di parlare semplice. Allora anche Santori, quello delle Sardine, ha il dono di parlare semplice. Anche l'Agribaudo ha il dono di parlare semplice. È un bel dono, meno male, per fortuna che non ho questo dono. Dice parla semplice e chiaro, è chiarissimo proprio. Mi ricordo che Floris faceva vedere anche la trascrizione di quello che diceva la Schlein come dire qualcuno ha capito qualcosa, sta farfugliando delle robe per non rispondere e farfuglia delle parole messe a caso insieme. Beh, grande boccia, ha il dono di parlare semplice e chiaro. Eh beh, caspiterina, quando bisogna difendere il proprio posto di lavoro si dicono anche queste cose. Dice, lei è di una generazione politica più giovane e diversa. Diversa, eh? Ma questo non basta. Boccia prosegue. Prima delle primarie eravamo terzi, al 14% nei sondaggi. Ora è iniziata una fase politica nuova. Parla di temi. Ma chi parla di temi? Allora, il merito della Schlein non è il suo modo di far politica. E' la novità. Quando lei è arrivata, la prima donna segretaria del PD, quella che doveva essere l'alter ego della Meloni, il nuovo PD. E allora, subito, immediatamente, in neanche sette giorni, senza che lei avesse ancora aperto bocca, il PD passa dal 14% al 21%. Oggi, in alcuni sondaggi fiancheggiatori della sinistra, il PD è ancora al 21%, addirittura verso il 22%. In sondaggi un po' meno di sinistra, il PD sta tornando indietro ed è al 19%. Sono più propenso a pensare a un PD che, dopo la fiammata iniziale, sta retrocedendo. Perché? Perché poi, lei dice, non mi hanno visto arrivare. Eh no, non ti hanno visto arrivare, però poi ti hanno sentito parlare. E quando ti hanno sentito parlare, hanno detto, oh mamma, oh mamma. E gli elettori stanno di nuovo diminuendo. Sta parlando di temi. Sì, in queste ultime ore sta cercando di tirar fuori qualcosa, fa un elenco, fa dei titoli. Perché una cosa è fare l'elenco dei titoli. Una cosa è sviluppare il contenuto. E come dice, butta giù delle idee. Comincia a scrivere, allora, di cosa possiamo parlare? Lavoro, sanità, PNRR. Lavoro, sanità, PNRR. Bravo. Hai buttato giù delle macro aree. Ma dire lavoro, sanità e PNRR, il governo è grave che non fa... Perché lei parla sempre di grave, grave. C'è questa parola che gli piace, grave. Bene. Ok. Caro Boccia, tu che difendi il tuo posto di lavoro. La capa parla di temi. No. Momento. Parla dei titoli, dei temi. Ora c'è da sviluppare il tema. Un po' come quando a scuola ti dicono, beh, allora, parlami di Dante. Eh, quello è neanche il titolo, è la traccia. Parlami di Dante. Parlami di quello che ha scritto Dante. Adesso c'è da sviluppare il tema. Sanità, brava, brava, sanità. Sanità che cosa? Eh, sanità. Il governo taglia la sanità, che non è vero. Ve l'ho spiegato l'altro giorno quello che succede con la sanità. Quindi il governo taglia la sanità. Non è vero. Quindi già la prima frase del tema, sapete quando il professore o la professoressa vi dice già, scancella e mette così, dice questo già cominciamo male perché il governo non ha tagliato la sanità. Ha fatto degli aumenti che non coprono neanche l'inflazione. Quindi il valore dei soldi è più alto, cioè non il valore, i soldi sono di più ma valgono di meno per l'inflazione. Quindi non sono tagli, è una cosa diversa. Quindi già manca la conoscenza, come dire non hai studiato. Non hai studiato. Perché se lei avesse studiato o studiasse, potrebbe dire intelligentemente, allora sulla sanità il governo non è che ha tagliato, è che non ha fatto degli aumenti che arrivino a coprire almeno l'inflazione. Pertanto il valore di quei soldi dati alla sanità sono inferiori all'anno scorso per l'inflazione che non è stata coperta. E uno direbbe, ah beh, caspita, sta spiegando bene, ha studiato. Invece dire, il governo ha tagliato la sanità è una sciocchezza. È una roba superficialotta che può dire chiunque. Che può dire chiunque. Quindi, un po' di eh? E così, la Gruber dice, vabbè, sentendo parlare l'impiegato del PD boccia, quello che deve mantenere il suo posto di lavoro, la Gruber dice, ah, parla di temi? È un po' a scoppio ritardato, mi viene da dire. Ma il partito la segue? È questo il dramma. Come dire? Gli ha fatto capire, tu sei qua a difendere la tua capa perché difendi il tuo posto di lavoro. Parla di temi? Ma, ah sì, è un po' troppo tardi parlare di temi, cominciare a parlare, a fare i titoli dopo tre mesi. Ma il partito la segue? È proprio questo il dramma. E naturalmente, eh, dice, ma allora poi il boccia si arrampica sugli specchi, il PD è un'alternativa alla destra, stiamo facendo la sinistra e chiediamo alle altre forze di unirsi contro la destra. Stiamo facendo la sinistra. No, state facendo i centri sociali. Arrivederci a tutti e grazie.